... Xperia Active ha dato modo di essere molto resistente a qualsiasi cosa Sa palla resistere a una ordata di pane di neve? Vediamo Siamo qui ancora una volta con il nostro Xperia Active Provate a fare questo sulla neve Eh funziona questo è un telefono da snowboarder Xperia Active è un telefono resistente a tutto Ideale per andare in giro con lo snowboarder Adesso faremo un testo veramente veramente duro Ve lo leggo In questa maniera quale con questa torta me lo leggo attorno alla gamba E poi lo trascino giù per la legge Pronti? Via! Eh ma Abba! Pronti? E vai! Pronti? E stiamo? Bene Questo si che è un telefono che spacca! Sta ancora riprendendo Xperia Active è un telefono da veri snowboarder! Io!